Giovedì 12 novembre ci troviamo a Torino per un workshop di infoprogetto organizzato da Action Group Editor in collaborazione con l'Ordine degli Architetti della Provincia di Torino. Il titolo del convegno contract, i luoghi del consumo pubblici e privati, un'occasione anche per parlare con le tante aziende protagoniste di questo convegno, di quali sono le novità presenti sul mercato, ma anche con tutti i relatori istituzionali delle novità e dei progetti in corso d'opera. Allora vediamo questo servizio che abbiamo realizzato. Mi cercherò di raccontare come nel progetto della sede del quartiere generale Branco Farmaceutica siamo riusciti a realizzare quello che era stato condiviso col cliente in fase di concorso, attraverso anche una gestione di quelli che sono stati gli appalti che hanno visto concentrare un unico general contractor, quelli che sono stati poi le attività di presa in carico e realizzazione dell'opera, ma realizzando delle gare parziali dedicate ad ogni singola categoria di opere, questo per riuscire ad avere il controllo su non solo una scelta rispetto al prezzo, ma qualità e prezzo di ogni singola fornitura, pavimento, contro il soffitto, girando poi il risultato di queste gare a un generale contratto attraverso una fee di gestione. Questo ha consentito di avere poi la realizzazione che fosse lo specchio di quello che è stato pensato e progettato. La caratteristica principale è stata quella condivisa fin dall'inizio di mettere comunque la persona al centro, nel senso che quello che è stato investito da parte della committenza era soprattutto un investimento sul capitale umano, questo era stato trasferito in una gestione degli spazi che fosse a servizio dell'utente, non solo per l'open space, per gli spazi operativi, ma per quelli che sono stati gli spazi accessori, quali ristorante, palestra, mensa e auditorio. Tutto questo serve a lavorare meglio in un clima che non si parla più di bellezza, ma di benessere all'interno degli spazi. Quindi abbiamo sostituito il termine di bello con adeguato, bello con benessere.